Buonasera amici, abbiamo anche un ospite questa sera, abbiamo il dottor Domenico Cilli, figlio di Don Pasquale, di Pasqualini, il nostro amico, Pasqualini ti puoi fare molto, ma tu dell'Arculta che la canzone si arraffina le guannette, a questo momento è l'Arculta, ma tu mi andiamo a morire, questa morire è la roccia, quella è la canzone di Navon, però tu dell'Arculta si arraffina le guannette? Si arraffina le guannette, e Pasqualini, i son barretti Si arraffinano le guannette Si, Pasqualini, son barretti Si arraffina le guannette Si, Pasqualini e ci va Aspetta Marika, ecco la fatica canzava, vabbè, no io sono vario di alai, sei un po' contro luce, vabbè, va bene, allora Marika, dimmi tu, ora mi metto, Sarrafina Ruganetti, Sarrafina Ruganetti, era una canzone di successo, che la canzava tutti i santi salvo, per l'arco dell'aridi, io mi ricordo l'aridi, mi ricordo anche perché c'è questa cosa, perché c'è questa persona che l'hanno fatta, allora stasera a fine era una poveretta che andava a prendere le frunne alle guannette, per metterle all'asno, e allora mentre che faceva questa frunna, è canta, Sarrafina e Luquanetti, e zi Pasquale, gli son barretti, e Sarrafina e Trialla, e Sarrafina e Trialla, e Sarrafina e in Galeci va, no, Sarrafina e Luquanetti fa, e zi Pasquale e in Galeci va, ma erano parecchie parti, sì, erano parecchie parti, ma ora non mi ritornano in mente, capito? E che c'è di la parte, andare a vedere? Eh, sì, aspets... Ma, aspetsera, aspetsgo, ma c'è una canziana un po' Sport? No, male adesso, non è vero, no, eh Sarrafina, appicciava Luquanetti, a ZI Pasquale Gli attendeva la tuaa Gli attendeva la tuaa Ma hinova Catanda che voi li direi qua? Sarrafine appicciavo le foghe, e zi Pasquale gli attendeva la tope, e zarrafine, la la la, zarrafine, la la la, zi Pasquale in Galece va. Ma qua c'era una canzone che ho cantato qui. C'ha molte strofe, però sai, se mi faccio un altro bicchiere, vado ancora meglio, più tardi faremo la seconda parte. Vabbè, quindi, tu ti convergo a scusare la fine. Per quello che mi riguarda a me, sono 75 anni, quindi me lo diceva anche mio padre e mio nonno che c'era questo detto qua. Era una canzone popolare. San Salvese. San Salvese, e era una cosa successa. Ma vabbè, poi, forse qualche pezzacchera ce l'hanno messo. Ma vabbè, qualche pezzatella ce l'hanno messo, però. Vabbè, allora, ma il zarrafine. C'è la parte che c'è, 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 la parte che c'è. A te, Maria, grazie, ciao. Che vuoi va, siamo così. Io faccio parte della Yalacerie, quindi, per queste canzoni popolari siamo... Le Maestre. Siamo le Maestre. Le Maestre. Grazie.